Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. Risolto in 24 ore il giallo di Mortegliano Udine in carcere con l'accusa di tentato omicidio in concorso. Ci sono un cittadino italiano di 44 anni, residente a Tricesimo e un onduregno di 30 anni che abita a Udine. Per la procura della Repubblica di Udine sulla scorta delle indagini svolte dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale non ci sono altre persone coinvolte. La ricostruzione di quanto accaduto sabato mattina è ormai chiara. Le due persone arrestate, la vittima dello sparo, un cittadino afgano di 24 anni che si trova in ospedale in condizioni disperate e un connazionale di 23 anni sono giunte nella zona periferica del comune friulano per discutere di attività malavitose legate allo spaccio della droga. Si è accesa una discussione, l'italiano ha estratto una pistola regolarmente detenuta ad uso sportivo con cui ha sparato due colpi, uno dei quali ha centrato alla testa la vittima assieme all'onduregno e poi fuggito in auto mentre l'afgano rimasto illeso lanciava l'allarme. Nei confronti di quest'ultimo non sono stati presi i provvedimenti giudiziari, nella vicenda specifica è soltanto il testimone chiave. Erano da poco passate le 15 di ieri quando su Codonie, Gaiarine, Francenigo, Bibano e Codega si è scatenata la furia del cielo, grandine con chicchi, grandi come noci, venti e pioggia hanno distrutto raccolti, fatto esondare fossati fiumi, sradicato alberi, fatto cadere cavi della corrente sulla stede stradale, Gaiarine e Francenigo, scoperchiate due case, alcuni alberi caduti nella zona d'ingresso dell'autostrada 28, a Codonie in particolare nella zona Bardespin, la grandine in pratica ha zerato i raccolti, in 70 anni non si è mai visto nulla di simile, ha detto un residente, un disastro totale. Accertamenti sono in corso per determinare le cause della morte di una bambina di 9 mesi di Bergantino, Rovigo, i genitori l'avevano portato al pronto soccorso di Legnago, Verona, che l'ha dimessa facendola tornare a casa. Il suo amico in 2018 è intervenuto dopo essere stato chiamato per le sue condizioni che si erano aggravate, sui posti carabinieri della compagnia di Castelmassa che hanno avvertito la procura della Repubblica di Rovigo. Ed ancora il clima politico di Adria è già incandescente dopo l'ultimo Consiglio Comunale, ora rischia di raggiungere temperature da fusione. L'abitazione dell'ex sindaco ed ex senatore Sandro Gino Spinello, attuale capogruppo del Partito Democratico, è stata fatta oggetto attorno alla mezzanotte di sabato di un lancio di uova, almeno due quelle che hanno colpito la facciata della casa di via Pastore in cui risiede. Si sospetta un gesto di natura prettamente politica. L'episodio sarà denunciato alle autorità competenti. Ed ora diamo la linea alla redazione di Treviso. Plastica biodegradabile e supercarburanti dai rifiuti di Treviso. Sono i risultati della raccolta differenziata e della ricerca di un gruppo di ricerca dell'Università di Caffoscari, che lavora al depuratore del capoluogo della marca. Ma il tempo è grandine sull'alta marca, allagamenti, strage di auto e di vigne di Prosecco, affarra e sernaia, strade chiuse e canali stralipati. Danni ingentissimi fra Godega e Gagliarine, filari di Prosecco rase al suono, disagi in tutta la marca. Via i park da Piazza Duomo a Treviso, Casugana, via la trattativa. Allo studio l'accordo con Vescovado e il gruppo Benetton per pedonalizzarla. L'obiettivo è riqualificare l'aria. Conte ha detto resterà solo il passaggio delle auto. Un altro colpo della banda del Bancomat. Un gruppo di quattro malviventi ha fatto saltare un'altra notte il postamat di Via Giorgione a Riese Pio X. La sanità ha zoppato, saltati per lockdown, oltre 15.000 ricoveri, quasi 29.000 prestazioni di screening riviati, 80 infartuati in meno in ospedale. Non è un improvviso miglioramento della salute, la gente si è curata di meno. Rosario Moreno, Treviso, per Radiodiffusione Europea. È convocata per oggi una seduta in videoconferenza del Consiglio delle Autonomie Locali in Friuli Venezia Giulia. L'Ordine del giorno, l'espressione dell'intesa sul disegno di legge in materia di paesaggio urbanistica ed edilizia e la designazione di un rappresentante degli enti locali e il tavolo tecnico dell'ufficio scolastico regionale in supporto alle scuole per gli esami di Stato e per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021. Nell'occasione, il Presidente Antonio Di Bisceglie relazionerà anche sulla problematica inerente la riappertura regolamentata di parchi e giardini pubblici. È stata siglata dal Vice Governatore con Delega della Protezione Civile Riccardo Riccardi di intesa con il Governatore Massimiliano Federica la dichiarazione di Stato di preallarme sul Friuli Venezia Giulia. Immediatamente dopo lo stesso, Riccardo ha fermato il decreto relativo all'impegno di spesa di un milione e mezzo di euro destinato alla copertura delle spese per i primi interventi urgenti di ripristino dovuti ai danni del maltempo, viste le criticità già evidenziate a seguito degli eventi di venerdì scorso. Ho appreso con preoccupazione la notizia dell'avvicinamento di tutti i comandanti provinciali di Vigili del Fuoco del Veneto. Un vero e proprio terremoto, ha commentato così l'assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto Gian Paolo Botaccini, la notizia dell'avvicinamento nelle caserme Venete. Il direttore interregionale è Munaro, verso il quale dice la massima stima, appunto sottolinea l'assessore, poteva godere su una squadra di ottimi comandanti provinciali. Non ho motivo peraltro di dubitare che i nuovi comandanti, alcuni di quali già conosco, siano assolutamente preparati. Mi auguro che in tempi brevi si crei lo stesso spirito di squadra che Munaro aveva creato con il gruppo precedente, mi preoccupa invece il fatto che non ci siano notizie in merito alla sostituzione del vice di Munaro, l'ingegner Porrivecchio, destinato a Brescia, una figura importantissima. Sul Friuli Venezia Giulia, cielo coperto con temporali piogge diffuse, in genere intense, possibile qualche temporale stazionario con piogge localmente più consistenti sulla costa scirocco moderato. Domani cielo da nuvoloso a coperto, con temporali sparsi, piogge in genere abbondanti, sulla costa al mattino bora moderata. Passiamo al Veneto, cielo molto nuvoloso, salvo tratti qualche possibile parziale schiarita più che altro in pianura. Per la giornata di domani cielo irregolarmente nuvoloso con alcune schiarite, probabilità nel complesso alta di precipitazioni, per fasi di fenomeni sparsi o temporaneamente anche diffusi, con vari rovesci e alcuni temporali. Temperature in calo, specie quando riguardo alle minime sulle zone montane e pedemontane, venti in quota da moderati a deboli dai quadranti meridionali, nelle valli deboli con direzione variabile, in pianura da moderati a deboli nord-orientali. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.